Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui nuovamente su Black Ops 3 e siamo nella modalità Moshib Chaos ragazzi La modalità più frenetica e più veloce che si possa trovare su Black Ops, qui nel frattempo prima kill Seconda kill, mi sa terza kill anche ragazzi, non lo so Ah subito vedo spari, non mi piace Assist Qua killato Andiamo qua Eh abbiamo vinto già il round 1 Abbiamo vinto già il round 1 Quindi 1 a 0 per noi ragazzi Abbiamo portato i robot nella loro metà campo L'abbiamo scortato bene Che ragazzi secondo round appena partito Ora dobbiamo fermare noi il robot In frattempo stavo provando a fermare il robot ragazzi L'ho sparato, l'ho killato in testa ma non è stato sufficiente Eh muori fanculo E muori fanculo Mettiamoli questa Vediamo se riusciamo a killarlo Qui lag assurdo Qui è grande assist ragazzi abbiamo, stiamo fermando il robot Io praticamente sto finendo tutte le armi Ah mi hanno killato però ragazzi sto riuscendo a fermare il robot che ormai ha pochissimo di vita Attenzione qua Mi hanno killato però ragazzi assist Stiamo fermando bene il robot Dobbiamo proseguire Kill qua Attenzione Oh ci hanno killato ragazzi stanno da dietro in almeno 10 Attenzione qua robot che avanza Eh hanno pareggiato Round perso Non siamo riusciti a fermare il robot Ok ragazzi partito in terzo round Mi hanno concentrato molto sullo sparare al robot E poco sul killare i nemici Ho ha killato il primo No però il secondo mi ha killato Eh cazzo No da sopra anche No arriva Andiamo qua ragazzi qua c'è sicuramente Eh infatti eccolo qui Il simpaticone lo sapevo che c'era qualcuno lì Nooo me li sono trovati davanti Non sono riusciti però a killarli Eh abbiamo vinto ragazzi Abbiamo vinto Ok ragazzi siamo partiti Ora dobbiamo provare a fermare noi il robot Qua ragazzi Ho provato ma nulla da fare Guardate quello nooo Un po' se riusciamo a Mi sarebbe ragazzi col robot Killarlo di Tempex Perché Ecco qua robot disattivato col Tempex Muori Ma muore anch'io ragazzi Muoio anch'io Se non lo colpiamo ragazzi arriverà In base Dobbiamo fermarlo a tutti i costi E abbiamo vinto ragazzi Abbiamo fermato il robot Quindi ce l'abbiamo fatta La partita è vinta Ecco qua Visuale morte finale Vedete il robot è rimasto fermo lì per parecchio tempo Non è riuscito ad arrivare Al punto Vedete vedete Guardate il Tempex È stato fondamentale per fermarlo Ecco qui Vittoria Ragazzi ci vediamo fra poco con la seconda partita Ragazzi eccoci tornati nella seconda partita Di Mochip Chaos Qui come sapete le modalità sono casuali Siamo capitati sulla mappa Avok È Precisamente in uccisione Confermata Eh ma vedete ragazzi Già si parte male Purtroppo questa mappa Non la conosco Cioè ragazzi Guarditemi voi Come si fa A non killarlo Così non riesco più a giocare Ragazzi Sta laggando tantissimo Lagg allucinante Lagg allucinante In questo cazzo di partita Guardate ragazzi Era pure un mio compagno Ma Per colpa del lagg Non mi era apparso neanche il nome Quindi non sapevo Se fosse amico O nemico Guardate qui lagg E non riesco a killarlo Ora ce l'ho fatta Ma vengo killato anch'io Eh muori vaffanculo Non mi togliero ogni volta le piastrine Io di puttana Eh ragazzi Ti pareva Ti pareva ragazzi Fate una kill E non c'è subito un altro Pronto a uccidervi Fisso di Call of Duty Qua Skillato Quello qua Immaginavo ragazzi Lo immaginavo Che ci sarebbe Lo immaginavo Che ci sarebbe arrivato un altro Dopo un po' Pronto subito A killarmi C'è qualcuno Eccolo qui Grazie al mio sensore Lo avevo percepito Ma Ovviamente poi ragazzi Vengo subito killato Di mia volta Perché se no Poi è brutto Se sopravvivi un po' Più tempo Ecco No vabbè ragazzi Non muore Dispari contro E non muore Come se non I colpi Non lo colpissero O c'è qualche corazza Particolari Ora non lo so Però Ecco qua Ci sono i tempex No ragazzi Ma come si fa Ma perché non li killa Ma se sparo prima Allegramente camperare Eccolo Ammazzare Va affanculo Ora muori però Hai rotto abbondantemente Il cazzo Muori anche tu Perché mi hai rotto Il coglione Tu e tutti i tuoi amici Mi avete rotto Il cazzo Muori anche tu Di nuovo Perché mi hai rotto Anche tu Abbondantemente Il cazzo E vabbè ragazzi Come al solito Cioè non si può mai Killare un po' Che subito Deve venire un altro Ti devo ammazzare E muori un po' Ecco qua Ha preso anche questo E prendiamoci Anche questa E poi subito Digetto Si buona Ancora E peccato ragazzi Non so se ho fatto La doppia Se non ci sia solo uno Non ho visto Poi guardano In fase di montaggio Penso che non ci sia solo uno Forse ho fatto Forse ho fatto la doppia Forse però Muori Vaffanculo Eccoti qua Ho iniziato A imparare un po' La mappa No Però Ah l'ho colpita anch'io Però il suo compagno Ha recuperato le piastrine Ci siamo Killati A vicenda Muori va Mi prenderò anche La piastrina E abbiamo Vinto ragazzi Partita Vinta Quindi il dominio Nevo È vinto Questo ragazzi Il mio punteggio Vedete Sono finito quarto Con 18 16 Quindi una buona partita Anche perché ragazzi Non conosco la mappa Avete visto come stava laggando Quindi ho fatto veramente il massimo Piano piano che continuo a giocare Spero di migliorare Tornare ai nefasti di un tempo Perché sì ragazzi Un tempo A Call of Duty Connessione permettendo Ero abbastanza bravo Me la cavavo abbastanza bene Ok ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate like Commentate Condividete Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Consigliato Tra gli amici Fatemi conoscere Ragazzi Ho bisogno del vostro aiuto Qui da AngeloNero83 Tutto Ci vediamo Nel prossimo video Bella